ciao a tutti sono francesco perché non mi conosce agli asagri merlino e con questo video vorrei iniziare con voi una sorta di diario ecco una sorta di diario per per condividere quelle che sono le mie le mie avventure il mio lavoro e le mie passioni quindi vi porterò con me alla scoperta del della realtà agricola mantovana con con tutti con tutte le varie facce di questa di questa di questo settore ecco quindi vi porterò a conoscere aziende vi porterò a conoscere persone macchine e questo per per appunto tenere un diario per condividere esperienze per confrontarci su vari su vari temi che che possono essere di interesse comune o anche solo di di spunto per per future future interazioni future collaborazioni ecco l'annata sta partendo siamo a fine marzo è un'annata particolare con una primavera molto asciutta che sta un po frenando quelli che sono i vari lavori in campagna a partire a partire dalle concimazioni dalle semine da diciamo una serie di pratiche che in questa fase solitamente erano in uno stadio sicuramente più avanzato io lavoro per una ditta sementiera quindi vi porterò la scoperta di vari prodotti partendo partendo dal mais arrivando poi a tutti gli altri prodotti che sicuramente non sono meno interessanti cercherò di come vi ripeto di portarvi esperienze di sperimentazione di diciamo di tecniche culturali per per condividere per confrontarvi confrontarmi con voi con altre realtà ecco quindi seguitemi in questo viaggio che spero sia spero sarà interessante spero di renderlo interessante con i miei contenuti ciao